La situazione meteorologica sulla nostra regione è caratterizzata dall'arrivo di un sistema frontale che ci interesserà per tutto il fine settimana, seguito poi da aria decisamente fredda a tutte le quote e partire in particolare da domenica. Sabato prevediamo cielo in genere nuvoloso su gran parte della regione, con più nubi in montagna, qualche schierita più probabile e frequente verso la costa. Ovunque saranno probabili precipitazioni, in genere moderate o abbondanti, anche temporalesche e localmente più intense, segnatamente sulla fascia prealpina. Soffieranno venti da sud moderati sulla costa e le temperature saranno sostanzialmente stazionari con valori massimi non superiori ai 16-17 gradi su pianura e costa. Zero termico a 2.000 metri con nevicate in 1.500-1.600 metri circa in montagna. Nella notte tra sabato e domenica arriva l'aria fredda, quindi si forma una depressione tra Golfo Ligure e Alto Adriatico, entra Bora forte sulla costa e raffiche di ventola nord in pianura e, dopo le prime ore della notte caratterizzate da rovesci temporali specialmente su pianura e costo occidentali, poi si avrà cielo coperto con piogge sparse e in genere moderate, intermittenti, in via via in esaurimento nel corso della seconda parte della giornata. Zero termico in deciso calo, intorno ai 1.000-3.500 metri, con nevicate a 700 metri circa, forse anche più in basso segnatamente sul Tarvisiano. Temperature quindi in deciso calo, con valori massimi non superiori ai 12 gradi sia in pianura che sulla costa. Relativo miglioramento il lunedì, ancora con nubi al mattino, poi schierite dal pomeriggio, più freddo e in particolare martedì mattina, probabilmente temperature minime intorno ai 2-3 gradi in pianura. E dall'osservatorio Metro dell'ARPA, Arturo Pucillo, vi saluta.